90 chilometri di corsi d'acqua a Aretini sotto i ferri, si tratta dell'operazione Fiumi Sicuri, che prevede un investimento di oltre 600 mila euro da parte del Consorzio di Bonifiche Alto Valdarno per una maxicura sui principali corsi d'acqua della città in vista dell'autunno. Si tratta di cercare di mettere in sicurezza, come dice il nome stesso dell'iniziativa, di mettere in relativa sicurezza l'ambiente fortemente antropizzato come è rappresentato dalla città di Arezzo. Circa 900 mila euro all'anno dei contribuenti a Aretini vanno al Consorzio di Bonifiche, il Consorzio di Bonifiche è fatto di persone, non è un ente astratto e finalmente vediamo il risultato, cominciamo a vedere i primi risultati degli investimenti di queste risorse nel nostro territorio. Cinque lotti in esecuzione, il più consistente da 200 mila euro, è quello che interessa complessivamente 26 chilometri del Vingone, Rio Valtina, Castro, Bicchieraia, Maspino ed infine Frassine e Dandria. L'intervento del Vingone si tratta prevalentemente di un intervento di taglio della vegetazione per poter permettere il deflusso delle acque nel modo migliore possibile. Questo è un progetto pilota che abbiamo fortemente voluto come Consorzio, nel senso che oltre al dettaglio della vegetazione Tugur, vengono individuate le specie che naturalmente crescono lungo i corsi d'acqua, cerchiamo di togliere tutte quelle specie infestanti che poi si vedono nella parte dove non è stata fatta la lavorazione dai rovi alle acace, alcuni pioppi, cercando di rinaturalizzarlo. Rinaturalizzarlo vuol dire riportare questi ambienti a un ecosistema naturale del corso d'acqua. Liberando le sponde dell'alveo dalla vegetazione infestante, perché qui è quasi tutta la vegetazione infestante, si aumenta la capacità di deflusso e quindi avere corsi d'acqua puliti consente in qualche modo di ridurre fortemente il rischio idraulico e quindi poi tutte le problematiche con esse con esse.